Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un tema spinoso, un tema che fino a pochi anni fa era molto molto sentito, poi man mano che i successi è andato scemando, io ho sempre battuto il ferro finché è caldo, questo sarà già il video che farà meno views dopo quello dei diritti tv che tendenzialmente è proprio l'abisso, però eccoci qua. Oggi parliamo dei giovani, ma non ne parliamo come ho sempre fatto con la spata affiata che nessuno segue sul report dei prestiti. Vi faccio un ragionamento che, vedrete, non è campato per aria, non è neanche una notizia, è un mio ragionamento e vorrei appunto sentire anche la vostra opinione. Ovviamente però prima iscrivetevi se non l'avete già fatto e dai, se volete proprio esagerare, campanellina così in teoria vi arrivano le notifiche, un bel like che non guasta mai e dopo aver visto il video un commento così ci confrontiamo. Ora, il ragionamento parte da questa roba qua. Gasperini vuole un profondo rinnovamento della squadra. Qualcuno di voi salterà fuori a dire ma dove l'hai letto, chi l'ha detto, tu prendetela per buona così com'è perché tanto quello è. Punto. La società giustamente non gliene cambia 8 o 9, né oggi né domani né mai, quindi secondo me potrebbe essere anche interessante valutare alcuni giovani che abbiamo perché se in alcune posizioni è effettivamente difficile, pur avendo giocatori buoni, metterli dentro in altre posizioni è una cosa abbastanza fattibile. Quindi, seguitemi un po' nel mio ragionamento, poi ne parliamo. Il primo giocatore che secondo me è inseribilissimo è un esterno. Nella fattispecie io direi Zortea, che avevo già buttato lì un po' sorgnone in un altro video, però, perché l'Atalanta al di là dell'ultimo periodo, l'ultimo anno, ha sempre avuto tre difensori, tre esterne fino a Castagna che ruotavano e quarto lì, insomma, metti che uno si fa male, l'acciacco, ok. Dato che secondo me non ne cambiamo tre, ma ne cambiamo due, uno e pezzelle, l'altro probabilmente sarà Attebor, a mio avviso sarebbe tanta roba andare lo budget sul quarto, quindi Zortea, che comunque la sua stagione l'ha fatta, ha fatto le presenze, ha fatto quello che doveva fare e non ha giocato manco male, secondo me, risparmiare da ne per andare a prendere il mancino che ci serve sulla fascia. Così tu hai Mele, che comunque è nazionale danese, ognuno potrà dire quello che vuole, ma scarso, non è Zappa Costa, che fiato ne ha, e un altro di livello, che tiene sulla baracca, fai ruotare quei tre lì, fuori c'hai il ragazzino della primavera, comunque che ha fatto le sue esperienze, che ha giocato i titolari in Serie A, che meno male messo in campo contro metà delle squadre in Serie A non sfigura, per me può essere un'opzione assolutamente dignitosa e interessante che valuterei, poi tra dire e fare c'è di mezzo al mare, però io personalmente lo farei, perché non ci vai a smenare, diverso dal discorso in difesa, perché molti, tracciando il discorso portiere, quello che tutti vorrebbero, che comunque ipotizzano è Ocoli, oppure Lovato, insomma, però se effettivamente esce un difensore che è Demiral, voi capite che non puoi fare Ocoli per Demiral, cioè va bene essere kamikaze, però a un certo punto ci vuole anche un minimo di self-control nelle scelte, ne uscissero due, uno può essere benissimo all'impiazzato, sempre per la logica accusato della fasce, con Ocoli o con Lovato, se esce Demiral, ovviamente devi andare su un difensore di un altro livello, però già sapere che comunque se tu vuoi ce li hai i difensori e la portare dentro non è malvagissima come cosa, ne abbiamo invece altri che secondo me sono dignitosissimi e potrebbero essere inseriti per rinforzare, per aggiungere anche uomini a un certo punto, perché a quello piace, al mister piace la panchina corta, però poi si è visto che insomma, se ti si fa male a qualcuno la panchina corta non è il massimo. Personalmente quello che più mi ha colpito in tutta la stagione è cambiali a Pordenone, che è un attaccante esterno, poi lo puoi adattare un po' lì in mezzo, però ha fatto diversi gol, belle prestazioni, Pordenone va bene, è quello che è, però se avete anche qualcuno che ha la possibilità di andare a vedere gli indici, quelli importanti, quelli seri, vedrete che ha dei numeri assolutamente interessanti. Chiaro, non stai portando dentro il giocatore più forte del mondo, però stai portando dentro uno che nel suo, e ne stiamo parlando troppo poco, ha fatto molto molto bene, cioè tra tutti i giocatori che mi hanno fatto passare in questi anni in prestito, la sua tabella è una delle migliori a livello di rendimento, se proprio vogliamo essere puntigliosi. Cioè ha fatto meglio di tanti altri che sono più gettonati, quindi per esempio è un giocatore che a me non mi dispiazzerebbe, ripeto, sempre come giocatore marginale, ma ti costa meno di giocatori che hai pagato una vita senza fargli vedere il campo, vedi Milansuk. Ti costerà sicuramente di meno, se gli fai giocare lo stesso minutaggio non cambia assolutamente nulla. E allo stesso tempo è un giovane, è primavera, ma anche quella roba lì conta. Un altro che potrebbe, se qualcuno volesse andare oltre le apparenze e provare veramente a vedere cosa si può tirar fuori, è Cortinovis. Un giocatore che non ha fatto male, per carità, però mi dà l'impressione di essere uno che se lo metti in un contesto difficile, come può essere una prima squadra, come può essere una squadra comunque, diciamo, che lotta per l'Europa, secondo me è un giocatore che può tirar fuori dei colpi. Poi il resto della mia idea è che è sempre meglio allenarsi con quelli bravi che andare a giocare con quelli scarsi, quindi per me è un altro giocatore che ci fosse necessità di tenere a mano su tanti campi per prenderne uno molto buono, io faccio anche quella roba lì. Tanto per ipotizzarla, non so se mi spiego, però, se ne facciamo uscire tre, che la mangia a mezzo in esubero, e magari uno dei due che facciamo entrare a un primavera, abbiamo risparmiato da nè, possiamo spendere su qualcos'altro. Diverso è, per me, il discorso punte, che io metto molto affine al discorso difesa, cioè, da un lato hai soprattutto un giocatore che è inamovibile, che è azzappata, hai il mister a cui piace sperimentare nuove soluzioni, a volte discutibili, però comunque soluzioni differenti, lì un attaccante di valore non è che trova molto spazio, e si porta sulle spalle un peso notevole, non è facile prendere il posto di Zapata, perché se Zapata non è in giornata hai delle responsabilità da portarti dietro incredibili, se Zapata è in giornata farei sempre la brutta figura, perché lui è Zapata e te no. Quindi non è facile, si potrebbe ovviamente sempre per il discorso del tenere a mano i soldini, tenersi un sisse, però francamente io una seconda punta pronta me la prenderei, se devo essere sincero. quindi lì è un po' un discorso a parte, però ecco sicuramente ci sono questi giocatori che hanno fatto bene, ma poi ve ne posso aggiungere altri, Goethe in Olanda ha fatto molto bene, ripeto non stiamo parlando dei titolari, però alla fine Goethe oggi ha lo stesso curriculum che aveva James City, all'occorrenza per rimpolpare, magari poi invece si rivelano anche dei giocatoroni, perché poi abbiamo avuto giocatori su cui io diponevo speranze, che non hanno avuto la possibilità di giocare per mille motivi, infortuni, penso a Heidelreich, penso a altri, ma anche perché invece hanno giocato, hanno anche dei numeri, cioè Goethe in era di Wies al Neck, ha giocato, ha avuto un inizio un po' così, poi bello il titolare, ha fatto le sue grandi prestazioni, cioè il classico profilo che sarebbero una sartorata, si può anche lui riportare. C'ha sto ruolo un po' difensore che, ripeto, va un po' a complicare la vita con la difesa 3, però secondo me ci sono giocatori veramente interessanti su cui io francamente farei delle valutazioni, anche perché, ripeto, che ne cambiamo 10. Ce lo dobbiamo togliere dalla testa. Io come al solito vi ringrazio, fatemi sapere che cosa ne pensate, perché tanti si riempiono la bocca, parlando di giovani, ma pochi poi saltano fuori e dicono Ascolta, Goethe in Eter, che dopo vediamo come va. Assumendosi anche il rischio, magari, della partita della vita in cui ce ne hai due infortunati, due squalificati, giocano due perdi e pace, amen. Però, quella secondo me a un certo punto è la strada che devi anche percorrere, soprattutto perché comunque ne hai valorizzati parecchi che hanno dimostrato in serie A di poterci stare. Come al solito vi ringrazio, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!